Avrebbero percepito indebitamente dal 2008 fondi europei destinati all'agricoltura per circa 61 mila euro. Lo ha accertato la Guardia di Finanza contestando a due agricoltori pluri pregiudicati di Altamura i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e illecita percezione di aiuti comunitari. Si tratta di due sorvegliati speciali che avrebbero ottenuto i contributi pubblici nonostante il divieto previsto dal codice antimafia. I finanzieri coordinati dalla procura di Bari hanno ricostruito i precedenti penali di polizia dei due agricoltori controllati condannati in via definitiva per estorsione, rapina, furto aggravato, ricettazione e detenzione illegale di armi. Dagli accertamenti sulla loro attività di agricoltori è emerso che uno dei due avrebbe messo in piedi la truffa mediante artifici e raggiri consistiti nel simulare la disponibilità dei terreni indicati nelle domande di pagamento attraverso la predisposizione e presentazione di falsi contratti di affitto. Le fiamme gialle hanno quindi verbalizzato i due indagati per la commissione della violazione amministrativa, segnalato i fatti all'Agea per la sospensione di ulteriori erogazioni e per il recupero dell'illecito percepito e infine le hanno deferiti alla procura della Corte dei Conti di Bari per il presunto danno erariale.